Ciao a tutti, macchiette, macchiettina e benvenuti in un nostro nuovo folle video ragazzi Ragazzi oggi non sarà un video come gli altri ma bensì sarà una color challenge Ragazzi hanno detto perfettamente giusto i miei bimbi, una color challenge Qualcuno di voi che sarà super attento al nostro canale Molto attento Si sarà accorto che non abbiamo mai fatto una challenge colorata Quindi ragazzi siete pronti a sfidarvi super equamente e in maniera civile? Dite sì o dite no? Sì Chiara? Ovvio Allora ragazzi per la scelta dei colori che è stata direi molto difficile Io rosa No scherzavo Chiara si tingerà di rosa e Diego si tingerà di azzurro Allora ragazzi venite con noi che andiamo al super supermercato Ah io mi ho chiesto la cosa Vabbè ragazzi facciamo una cosa Andiamo al supermercato e andiamo a vedere che cosa si può comprare A dopo A dopo Ah e dimentichiamo ragazzi mi raccomando mettetevi comodi perché la super color challenge Sì brava perché la super color challenge abbia inizio E con rosa e blu Ah è vero Chiara Rosa e blu e con Potremmo mangiarli Vabbè Chiara A dopo Chiara Chiara Ma siamo venuti per prendere qualche gioco? Siamo venuti a prendere da mangiare No 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 Allora Chiara hai deciso no? Che cosa prendere? Non so Ricordami un po' che colore devi prendere tu Quella che l'hai detto prima è sveglia Quindi colore? No Rosa Diego E dimmi un po' il tuo colore oggi nella color challenge Azul Ok andiamo? Dai Ragazzi come prima cosa andiamo nel reparto bevande Ecco il nostro libro Amici lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon E riceverlo comodamente a casa vostra Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo E fateci sapere qual è la vostra storia preferita E volete sapere la mia? Eccola qua Lo stregone Willo Ma non vi anticipo ancora nulla La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia Di mamma Giulia e figlia Chiara Allora Chiara Non voglio dire niente Non mi dire niente Allora intanto azzurro per Diego Io voglio vedere quello Il Keto Rail Questo è azzurro per tuo fratello A Dio gli piace l'arancia Eh vabbè adesso tu dovrai scegliere la bevanda rosa Ok No è arancione Ragazzi non vi vogliamo spoilerare troppo Quindi ci vediamo a casa Che vi facciamo vedere nel dettaglio Che cosa abbiamo preso per la color challenge Eccola mamma A tra poco Eccolo 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 No ragazzi non potete capire A tra poco Allora ragazzi Dopo quasi due ore al supermercato Un sacco di coda Un sacco di mascherine Sì arrivo E finalmente siamo arrivati a casa Quindi la color challenge abbia inizio Allora ragazzi scusate Ma purtroppo abbiamo scoperto Che di cose rosa Ce ne sono molto di meno Che le cose azzurre Spaziamo quindi ragazzi Nell'alimentazione Vabbè ragazzi Invece di stare a chiacchierare Io che generalmente Non sono così bella E quindi la mia faccia Non è così fotoigenica Da continuare a chiacchierare con voi Ma forse è molto meglio Figlia Chiara e figlio Diego Ragazzi Andiamo a vedere Il Sfida al color challenge Sto spittando da un'ora Sì uomo Ti vuoi muovere Diego Lo sai che la regola È Non toccare il cibo rosa E non devi toccare neanche io Il cibo blu Perché se no sei squalificato Cosa Chiara Il cibo Il cibo blu Il cibo azzurro Ovviamente ragazzi Chiara continua a dire blu Ma non ci sono problemi Perché non abbiamo preso Tutto L'occorrente Azzurro 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 Ma qualche volta Ha anche fatto qualche sfumatura di blu Ovviamente Chiara non ha preso Tutta roba rosa Può anche aver preso Rosa chiara O rosa scuro Quindi ragazzi Vabbè Ma perché continua a parlare Dai vediamo Quindi Allora Vediamo un po' Uno Ma scusami un attimo Chi ha aperto questa bottiglia? Io no Non l'hai aperta tu? Ciao Chiara Dai vabbè Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Allora Ragazzi Chiara ha benzine Otto Oggetti Rosa E andiamo un po' a vedere Diego quante cose potrà avere Secondo me siamo quasi uguali Andiamo a vedere Allora Diego Sei pronto A contare Wow Quante cose Un attimo mamma Dimmi Non si conta anche la letterina? No non si conta la letterina Perché in pratica Nella letterina Ci sono le regole del gioco Che Diego c'è l'azzurro Sì E Chiara c'è la rosa Le regole del gioco Cioè che tu non dovrai mangiare nulla di azzurro Se Diego non te lo permetterà Che non devo toccare le cose azzurre Quindi fatti fatti tuoi Giusto? Sì ma iniziamo sta sfida Tre Due Uno Via Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E nove E Dieci Ben sì Quindi Chiara tu hai otto cose rosa E Diego ne avrà dieci Tu ne hai due in più Cosa non vuoi iniziare tu? Vabbè Dal bene Dal bene Benissimo Mamma Io questa l'avevo già aperta Allora Vediamo un po' Chiara Fammela un po' vedere Ma scusa è proprio rosa 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 Ma Ragazzi Volevo sentirla ragazzi Che profumo che ha Allora Com'è? È cattiva Chiara Ragazzi Ma avete visto La faccia di Chiara Ma Mamma No Chiara Ma è cattiva? No Chiara Ma è cattiva? C'eri meglio nella vita Allora Diego Dimmi un po' Questa è buonissima Perché l'ho già stessa No Sì perché dovete capire Che la bevanda preferita Di Chiara È il Gatorade Azzurro Non è vero Questa è il mio preferito Ma è anche di Chiara Oh Mi ha scoppiato Bugiardo Bugiardo Allora A parte che voi litigate Ogni tre per due L'ha già assaggiato Facciamo così Vabbè Dai Diego Su Vediamo un po' Bevilò 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 Sì che ha aperto Com'è Diego? È la lingua blu È la lingua blu Vuoi vedere se è la lingua blu? Non ancora Sì sì Ah sì un pochino sì Allora Diego Sì non è che te lo devi bere tutto adesso Posalo Mmm ci penso Siamo dagli oreo Dagli? Gli oreo Dagli oreo Bravissimo Allora Ah Diego Chiara Gli oreo Non ce li ha Perché gli oreo Sono azzurri Sì No no Chiara Che cosa hai trovato? No Se l'avevo messo di nascosto No ma fammi un po' vedere Allora Chiara Tu mi hai fregato Poi chi ti ha detto di prendere delle cose che io non sapevo? Eh Chiara? Nessuno Me ne hai detto tu Ragazzi vabbè In effetti Aveva ragione Chiara Perché quando siamo andati al supermercato Prima Vi abbiamo fatto vedere poco Perché non dovevamo spoilerare ancora troppo E gli avevo detto a Chiara Che lei avrebbe potuto tranquillamente prendere Qualsiasi cosa che riteneva più opportuna Ma l'importante è che era rosa Quindi Chiara Devo ammettere che hai perfettamente ragione E hai fatto benissimo Secondo me Dimmi A me sono sempre più amici gli oreo E qua sono rosa Come sono rosa? Fammi vedere Mascarato Ma che imbrogliona che sei Allora Diego Hai aperto gli oreo Giusto? Ok Allora vi volevo far notare una cosa All'interno di questi super oggetti Che sono azzurri O che sono rosa Ovviamente Diego Tu sai che questo È un tonno Il tonno Com'è? È azzurro fuori Perché la confezione è azzurra Ma il tonno generalmente Dentro di che colore è? Rosa Però è azzurro Però è azzurro Quindi Questo qua andrebbe Da te O da figlia Chiara Pensateci un attimo E poi mi date la risposta Da figlia Chiara Ovvio No Ma bugiardo Quindi tu dici che va da Diego E tu dici che da figlia Chiara Quindi ragazzi Secondo voi Da che parte state? Da quella di Chiara O da quella di Diego? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Perché sapete che Mamma Giulia è super curiosa E soprattutto vuole sapere Come la pensate Ragazzi Io non sto da nessuna delle parti Perché L'involucro è azzurro E il contenuto è rosa Mamma mi sto sentendo Eh Sì vabbè Chiara Cos'è che mi stavi dicendo amore? Ma bello Il tonno va bene col cracker E tu il cracker non ce l'hai Vado in bagno E non toccare il cibo rosa Allora Diego Nel mentre che Chiara è in bagno Ita che cosa potremmo fare? Apriamo il brule cacao Ah Bravo Sì Dai fammi un po' vedere Come lo scarti E guarda un po' Ma l'hai preso proprio azzurro Ma dimmi un po' Qual è il tuo colore preferito? Azzurro Veramente Wow Quindi questa color challenge È giusta giusta per te Lo apri? Va bene Allora Diego Il brule cacao te lo dà Cosa c'è Chico? Cosa mi stai dicendo? Eh dimmi Ah lo vuoi nascondere? Dai veloce veloce che sta per arrivare Chiara Tu dici che se ne accorgerà? No Dai che sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Mamma Eh amore Ma cos'è che sta facendo sparire? Il mojagort La messa sotto Banale Mamma Stai arrivando Ok Ok allora Allora Ma io comincio al tavolo Jogurt Dai Dov'è? No No ma scusami un attimo Chiara Neanche il tempo di fartelo sparire Che hai già subito beccato Che hai già subito beccato Diego? No Chiara? Io credo che sì che l'ho beccato Diego ma hai capito? Guarda che io l'avevo finito prima E guarda Che io l'avevo beccato eh Cioè io devo ammettere Che figlia Chiara è molto astuta Dovrò incominciare a fare qualche lezione a figlio Diego Per imparare un po' Le mosse del Nell'essere astuto Negli scherzi da fare Perché dovremmo fare delle challenge Figlia Chiara contro figlio Diego Super scherzi epici Vabbè Allora dai Prossimo Alimento da aprire Allora fammi un po' vedere Ah hai già aperto lo yogurt E vabbè ragazzi Nel mentre Finito un secondo Tanto Sì Ah vai tu a prendere il cucchiaino Ok Nel mentre che Chiara va a aprire il cucchiaino Vi volevo chiedere Aprire A prendere E' vero Scusate Mamma Giulia ha sbagliato Nel mentre che Chiara va a prendere il cucchiaino Vi volevo fare una domanda Ma il vostro colore preferito Qual è? E soprattutto ragazzi E ditemi un po' Quale altra challenge Vorreste vedere da mamma Giulia Figlia Chiara E figlio Diego Fatemelo sapere E scrivetemelo qua sotto nei commenti Ah e dimenticavo ragazzi Dato che qualcuno di voi Ce l'ha chiesto Come stare Praticamente Come vivere Con noi quotidianamente Tutto ciò che facciamo Oltre che pubblichiamo quotidianamente Su Youtube Già da ormai Un anno E Tre Quattro mesi Siamo sempre super attivi Su Instagram Mamma Giulia Figlia Chiara Quindi se per caso Tu non ce l'avessi Puoi andare Con l'Instagram Di tua mamma Di tuo papà Di tuo fratello Comunque di qualcuno Che ce l'ha E puoi andarci a seguire lì Ovviamente Ricordati di iscrivervi Che Ovviamente Più siamo E più la tribù Di mamma Giulia E figlia Chiara Si diventa più Più forte No ragazzi Stanno Stanno condividendo Lo yogurt Guardate E Ma Scusami un attimo Ma Allora Diego Perché lo volevo E mi piace quello Ok Ma sapete no Che quando Uno E l'altro Mangiano qualcosa Dell'avversario Si perde la sfida Bimbi L'avete capito Che Diego Ha perso la sfida Mamma Le puntate Non è vincere Ma Partecipare No Aspetta un attimo Cioè L'importante Non è vincere Ma partecipare Ragazzi Questo è un super motto Si E Cioè Diego Tu sei troppo avanti E si dice Cioè Chiara No Chiara Rosa Cioè Il burro cacao Rosa Si mangia No Chiara No Chiara Quello è un burro cacao Vabbè Dai Vi chiamo mamma No Ragazzi Solo per dirvelo Diego ha perso la challenge Quindi È finito il video di oggi Ci vediamo Nella prossima challenge Diego hai perso la stella No Non soffiamo il video Quindi ragazzi Non soffiamo il video Perché hai perso Ragazzi Sta arrivando Diego Ci vediamo domani Con un nuovo video Un nuovo bacio Ora dobbiamo andare in cassa Dov'è tua sorella Mamma Posso andare per me Va bene Devi sempre esagerare È tardi Andiamo Andiamo Ok Dai Aiutatemi Eh Ti stiamo aiutando Mamma Guarda Sì Gentilmente una Grazie Passate avanti Bimbi Ok Vado a preparare il sacchetto Vai Anche tu Ok Dai Diego vai Vai avanti amore Che bello Allora aspetta Facciamo un altro sacchetto Senza problemi Allora Uno Papito Secondo Dai che ti aiuta Mamma Voglio questo Ma lo compri? Mamma Amore Ho già pagato Vabbè Allora Aspetta Il prezzo Amore No Allora Una bustina Lego Ogni 5 bollini Più 1,50 euro Eh No amore Noi abbiamo Quanti? Purtroppo Noi abbiamo Un bollino E dobbiamo averne ancora 4 E compriamo tutto il supermercato? Io direi di no Anzi Facciamo una bella cosa Andiamo a casa Che è tardi E mi avete fatto già impazzire oggi La spesa per oggi È stata completata Andiamo Oh Uffa È tardissimo Dobbiamo andare a casa E sistemare tutta la spesa Andiamo Ok Mamma Io volevo i primi Lego Eh sì Anche io Amore Abbiamo detto Che La spesa per oggi È terminata Andiamo a casa E poi con la prossima spesa Raccoglieremo altri bollini Ok cuccioli Ok Andiamo Mamma Mamma Me ne occupo io Della spesa a te Tieni questo Grazie Ciao Ah grazie Mamma mia Che bello E la sistemi tu? Ah sì Sicuramente Diego Che c'è un nidda Il nidda? Ah il libro è più bello Non è vero C'ho l'orsacchetto Premi Lego Tanti premi Lego Tanti bollini Tanti bollini Tanta spesa al Carrefour Tanta spesa al Carrefour E dobbiamo mangiare tantissimo Idea Idea Sì Tanti bollini Tanta spesa Diego 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 Una nuova challenge Perdi il mente Maschi versus Perdine Primo che smette di paggiare Perde quindi Cosa c'è da gridare bimbi? Ma è venuta l'idea? Oh quale? Ma sono le otto del mattino Non abbiamo neanche ancora fatto colazione E tu hai già un'idea in mente? Sì Una challenge Una challenge E adesso quale? Maschi versus femmine L'unimo che smette di maggiore Perde E quindi cosa devo fare? Inizio la challenge Ah già dalla colazione? È ovvio Andiamo Con il nostro libro Amici lo sapete Che è disponibile In tutte le librerie d'Italia In più avete anche l'occasione Di prenderlo su Amazon E riceverlo comodamente A casa vostra Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo E fateci sapere Qual è la vostra storia preferita E volete sapere la mia? Eccola qua Lo stregone Willow Ma non vi anticipo ancora nulla La notte dei sogni In tutte le librerie d'Italia Di mamma Giulia E figlia Chiara Andiamo Io sono in scapola Dai Diego Andiamo a fare colazione Che stanchezza Chiara ha avuto la brillante idea Di fare una super challenge E ora mi tocca fare la spesa online Finalmente ho ordinato la spesa E' già arrivata Velocissimi Andiamo a mettere a posto la spesa E che abbia inizio la challenge Bimbi Tocca fare tutto Allora bimbi Ditemi un po' Latte o tè? Io voglio una crostatina Con un succo di frutta Ok Tu invece? Voglio un latte caldo Con la crostatina Allora va bene Ok va bene E Davanti Antonio dove è andato? E' in bagno Ah ok Che cosa gli possiamo preparare Come palazione? Ah no sta uscendo Eccolo Ah ecco ti Buongiorno Allora i bambini hanno scelto la colazione Tu che cosa preferisci? Senza lattosio? O lo vuoi bio? Oggi? Senza lattosio Ok quindi vado a preparare? Ragazzi inizia la challenge Ragazzi sta iniziando questa nuova challenge Ideata da figlia Chiara Figlia Chiara Non ho capito perché stamattina si è svegliata così tanto E' euforica Comunque ragazzi abbiamo scelto di iniziare con una buona colazione Perché dovete sapere che l'inizio di una buona colazione è l'inizio di una buona giornata Quindi iniziamo la challenge Buona colazione Buona colazione Io mi bevo un steak alto con una crostatina Bravissima Anche io mangerò la crostatina Un bel succo alla pesca Ma scusatemi un attimo Ma per vincere questa challenge Che cosa bisogna fare? Mangere il tutto Ah ok allora mangiamo Ok Chiara amore prendi pure Ah non so perché ma a me questa challenge della colazione mi fa impazzire Durirà fino alla cena No vabbè dai Ah si la challenge è sicuro Abbiamo detto che la facciamo di 24 ore giusto? Si E voi a che punto siete? Noi ci siamo quasi abbiamo quasi finito E' vero Diè? Oh lo sapete bimbi Che Io ho finito Hai finito? Puro io Io anche Ma mi sono un po' 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 dita così Però vi stavo dicendo che devo ammettere Che fare la colazione con le challenge è bellissimo Perché in famiglia si sta proprio bene facendo le colazioni Siamo E infatti siamo una famiglia E lo so amore però a volte Ragazzi lo devo ammettere a volte Magari papà si sveglia prima La mamma si sveglia dopo No O viceversa No Noi voi due mi svegliate di volte sempre Noi due poi ci si svegliamo Infatti noi maschi aspettiamo sempre voi donne E l'unica cosa ragazzi Vi volevo dire Che nessuno ha vinto Perché abbiamo finito tutti quanti la colazione Allo stesso minuto Quindi ragazzi Per la prima challenge Chiudiamo Pareggiato Prossima challenge Vi aspettiamo a pranzo Ciao 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 Che cosa stai raccalcolando C'è qualcosa che non quadra Praticamente E da ieri che abbiamo terminato la spesa Ha voluto fare questa challenge E ora con la calcolatrice Mi sta per peccare Macchiette macchiettine E' arrivato il momento della sfida del pranzo Quindi andiamo a calare la pasta Cuccioli Antonio amore Quattro minuti è pronto Buona partita a tutti Che la ciò che la ciave abbia inizio Che la ciave abbia inizio Macchiettine Macchiettine Contro Ferbile Che vinca il migliore Dai dai Ci sarà Hai visto quanto poca pasta O mezzo Su fratello Non vinceranno mai Non è vero Dai Diego presto Che dobbiamo vincere Dai Dobbiamo essere i primi Sì vabbè I primi I primi Diciamo che abbiamo ancora La merenda E la cena di questa sera Quindi Tutto può succedere Sì Ho vinto Sì Grande Chiara io non me la sento più di finire Vabbè Ciao Io vorrei giocare Scusami Perché non è dispiaciuta Che ha perso la sfida C'è qualcosa che non quadra Ma prima o poi Mamma Giulia lo scoprirà Ragazzi siete pronti Per la sfida Della merenda Sono le 16 in punto E ci sta venendo Una certa A fare Quindi ragazzi Siete pronti Faremo Noi fermi Nei pop Cordo E noi maschi Faremo Le pizze Dai che vinca Il migliore Allora Diego Dobbiamo aprire le pizzecche Mettere tutte qua dentro Ok E mettere nel forno Andiamo andiamo Allora Con il pacchetto Ma papà ma per vincere Quante le dobbiamo mangiare Penso che basti una testa Diego Ok Li mettiamo in forno Ok Apro il forno Ci siamo Mamma ovviamente mettiamoli pochissimo Che ci pizzecchie È vero Ho sentito Loro Che hanno una pizzecchia a testa Eh no Allora Due pizzecchie a testa E lo vorrebbero avere No 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 Una va bene Noi ne mettiamo pochi E al prossimo posto Li metto io Li metto io Sì dai Ragazzi Ci siamo Stanno per scoppiare L'ultimo pop corn Poi Iniziamo la sfida E Impegnati questa volta A mangiare A pranzo Se non l'hai mangiato tanto Sì però Non sei rimasta tanto Arrabbiata Che noi abbiamo perso la sfida No perché sapevo che C'erano altre challenge Quindi Andiamo La sfida della merenda Inizia la sfida Quindi Ragazzi Un bel friamettino Allora Sicuramente Non è una gara È solo una challenge Io vi faccio Un indovinello Cosa fa Una moschera Anche un francello No No Scavalca Cosa Scavalca No Moscavalca Dai 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 Anche voi fatecene una Cosa fa una zanzara Attaccato l'angolo L'hai inventata la Sì La zanzara la tigre Dai Chiara Sì Hai visto che le donne Sono sempre le migliori Mamma Stavolta abbiamo fatto Diego Fate con lui Andiamo Stasera Una bella cenetta Quindi Suotatevi bene il pancino Perché alle 8 Si cena Diego stasera Dobbiamo assolutamente Vincere la cena Che se no Ci battono Ok Ok Sì Martina Vi ho fatto fare Tanto spesa A mia mamma Perché almeno Ci hanno dato Tanti pollini E con i pollini Ho preso I prodotti Della Lego Collection E Chiara No Chiara cosa stavi facendo Scusami Niente Abbiamo appena terminato Di fare merenda Ti avviso anche a te Signorina Ricordati Che fino alla cena Tu non mangerai nulla Lo sai Sì Eh dai Mi raccomando Vabbè Dai A dopo Per la sfida finale Che dobbiamo vincere Ciao Non mi ha beccato Ah ci siete già Ebbene sì ragazzi Siamo quasi giunti Alla conclusione Della nostra Super challenge Maschi contro femmine Mamma Giulia Ha deciso Di fare Un po' di carne E salsiccia Con una bella insalata Che figlio Diego Non ama l'insalata Ma Sarò obbligata A mangiarla Quindi Andiamo a preparare State fermi lì Che ora Vi faccio vedere tutto Ecco qua Con La Fantastica Salsiccia Carne Quindi ragazzi Andiamo A preparare L'ultima sfida Allora Nel mentre che facciamo Questa fantastica insalata Che Diego Non mangerà mai Quindi Perderanno sicuramente Maschina challenge Ok Sapete il condimento Perfetto Per la carne La buonissima Salsa Che puoi accompagnarla Quindi Io quasi quasi Stasera Ho intenzione Di assaggiare La salsa Fornata Mi metto all'opera E iniziamo La sfida Allora Mangia Ragazzi Ragazzi Iniziamo la sfida Maschi contro femmine L'ultima sfida La cena Allora Ragazzi Come avete visto Patantonio È tornato E Abbiamo Cominciato Già a fare i piatti Perché dovete sapere Che stasera È l'ultima sfida Abbiamo fatto La colazione Il pranzo La merenda E la cena Che sta per iniziare Siete pronti? Prontissimi Sì Quelle Che vinca il migliore Sì Andiamo Diego Diego Come fate a finire così in fretta? Bravo Dai che vinciamo noi Ah Chiara Finalmente Ragazzi Scusate Diego Hai praticamente finito la carne No no Ora contro l'insalata Sì Tutta l'insalata Se vuoi vincere Dai dai Facci vedere Papà A me non mi piace L'insalata Ma la mangia A posto Amore Mangia dai Non ti piace? Ci facciamo a vedere No no Non si può Diego E adesso fai finta di mangiarla No no Diego Le regole del gioco Erano altre Quindi Chiara Dillo un po' Per la cena Chiara Sei contenta? Eh Certo Dovete mangiare tutto Eh belle signorine No no Sai perché? Perché voi avete parato E voi siete escludi E noi abbiamo vinto Sì Chiara Se vogliamo mantenere i patti Ha ragione Diego Dobbiamo mangiare Perché dobbiamo dare il buon esempio Sì È vero mamma Dai Chiara amore Che cos'hai? Sono stanca Come sei stanca? Eh Non mi dire che oggi hai mangiato troppo Io Ottermi Non è vero Non l'hai terminato Chiara Non puoi passare il cibo agli altri Sì Ma non l'hai mangiato Pareggiava In effetti ragazzi Chiara non ha terminato il piatto E in più lei addirittura ha spostato il cibo nel suo piatto direttamente nel mio Quindi niente La sfida è stata vinta da tutti e due Perché abbiamo pareggiato Quindi ammettiamo che i maschi e le femmine hanno vinto entrambi Ragazzi Anzi macchiette e macchiettine Siamo giunti al termine di questa fantastica challenge Ma vi volevo ricordare Alla deciso Chiara dobbiamo ammettere Ti ringraziamo Chiara perché senza di te non potevamo fare questa sfida Che ci siamo divertiti un sacco Ma vi volevo dire ragazzi Che fino al 16 di novembre Facendo la spesa nei punti vendita Carrefour e Carrefour online Puoi collezionare le figurine Raccogliere questi bollini E ottenere i fantastici premi Lego collection Quindi cosa aspettate? Andate? In una nuova avventura Corri a mettere un bel like Welcome to the ingredients Ciao Noiano Diego Ti sto chiamando una mezz'ora Arrivo Ma ma non stai facendo di così tanto importante Dai Yeah Che sei già che è un re Mi sto noiando e non so cosa fare Dai Diego Vieni Come aspetti Sempre che mangi tu? Tutto il giorno soccolato Cioccolato Cioccolato E poi Cambia Nutella Poi Dico Tanto in vera Così tanto Moli di pancia Con tutto sto cioccolato No Io amo cioccolato Le calamette Tanto zucco Quindi ti piace più So Diego Mi è venuta in vera Che paura Quando mi ha la video Vabbè vabbè Qual è? Ho pensato di fare una challenge Tu Hai visto che ti piace così tanto Il dolce Allora Facciamo dolce contro salato Dolce Salato Dolce Salato Diego Fai una Magia Così fai comparire Dolce contro salato Ok? Ok Ragazzi Tre Due Uno Eccoci Diego Se siamo Invertiti i posti Fai un'altra delle tue magie Ehm Uno Due Tre E non male Diego Mi hai venuta in idea Mamma mia Un'altra idea di che Arrivo subito Allora Quando qualcuno Ti va a rindere Deve scegliere la campanella Eppure Chi non ha ancora fatto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E Lasciate un bel like Allora Scelizzo la sfida Dolce contro salato Qua sotto nei commenti Scrivetemi Che team siete Dolce O salato Cioè Aspetta Dolce O salato Salato Dolce Salato No Andiamo avanti Ehm Io come Nel re Cioè Colazione Mangerei Lo sapevo già E' buono Io lo voglio mangiare E' rosso Perché Pasch Vero Però E' zapp Non lo mangio A vero Piace Perché Pasch A me si Diego Dai Scegli cosa Per fare Colazione Voglio La si Ruva Quindi Iniziamo Con la bella Colazione Ragazzi Mi vado a mettere Bella Comoda Mi piace in sacco Il peperone Però mi piace In realtà Molto Più Giallo Questo Non l'ho mai Esteggiato Quello Rosso Che buono Una colazione Così Te la sogni Eppure E ragazzi Secondo voi Chi vencerà Questa sfida Secondo me Io Sai di fragora Ragazzi Però anche No E' per voi E' mia Vincerò Io Fida Che putta Di cioccolatini Non sono cioccolatini Sono sciotti Dio Si dice Orsacchiotti Comunque L'usa Che puzza Dai Ragazzi Andiamo Con la prossima E Diego Ora bisogna Fare merenda Perché La colazione L'abbiamo Fatta La merenda Quella Dalle 10 Del mattino Andiamo Diego Siamo tornati Comunque Ragazzi L'abbiamo cambiato Perché C'era Molto rumore Era troppo Maschigliato No Pensavo Così Ok Diego Cosa scegli per colazione Colazione Merenda Dalle 10 Del mattino Posso scegliere Quello Che voglio No No Ora Tu mangerai E io E stai La camera Che ci sta Dicendo qualcosa E si Ma cosa Ah forse io Posso scegliere Proprio che vuoi Forse Eh Ma va bene Diego Col dei scelto Per merenda Forse Ho deciso Di Tale A Di Judo Ah come mai Voglio tenere la pancia La libra Per panso Ottima idea Mi hai fatto Non voglio prendermi ora Diego Andiamo un po' a giocare Tra poco ci sarà Prendo Eh Ho il dippato Scola Evviva Diego Cioccolata Non ti fa la capa Venire Ma il di pancia Con tutta La sua cioccolata Io ho scelto questo Lo sapete Come si chiama Cindeca Diego Ci mettiamo Su il tavolino Così Sì Ho trovato Ecco Per caso Gli hai già mangiato Immagino Sì Perché non ti farei Vatti tuoi Ecco Il nostro libro Amici Lo sapete Che è disponibile In tutte le librerie d'Italia In più Avete anche L'occasione Di prenderlo Su Amazon E riceverlo Comodamente A casa vostra Cosa aspettate Correte ad acquistarlo E fateci sapere Qual è la vostra Storia preferita E Volete sapere la mia Eccola qua Lo stregone Willow Ma non vi anticipo Ancora nulla La notte dei sogni In tutte le librerie d'Italia Di Mamma Giulia E figlia Chiara Perché io mi preoccupo Per la tua pancina Vabbè Telecamera man Inquadra tutte e due Invece Le può andare solo a me E Diego Telecamera man Invece I telecamere Due Insieme Ah Procucci Sono ghizzini di mais Vediamo se ce lo facciamo Telecamera man Non rinde Dai telecamera Telecamera man Sei buono Ragazzi Vi vorrei far vedere La pancina Che rita Questa Buffy Diego Giociamo a casa Poi mi è ciò A pietà Ok A pietà che ho finito Di mancare Vabbè ragazzi In mezzo di noi Giacchieriamo Siamo a voi Quanto fa Uno più uno Sei Sono stessi Uno Più uno Due Eh Due Più due Quattro Telecamera man Dai Telecamera man Telecamera man Tu non suggerire Allora Cinque Più cinque Due Quanto fa Dieci Bravo Dieci più dieci Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci 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 Ragazzi Volete sapere Chi è il telecamera man Se non ho ancora Stato Faremo dei video In anticipo Vi sveleremo Chi è il telecamera man Vero Diego Io so Ragazzi Dovete sapere Che Fino Io bacio Diego Non gli piace Diego Mi hanno dato idea Ci faccio rigare Vediamo se la riga Anche voi amici La camera E c'è il cameraman Ma cosa sta facendo Questa ciocchina Sto mangiando Abbiamo finito di mesare Al prossimo momento Vabbè No Vabbè Io ti vado un po' a riposare Per la cena Buonanotte Andiamo avanti Che se no Ci prendiamo in chiacchiere Che se la camera Dormiamo Dormiamo È quasi ora di cena Voglio Vabbè Vabbè Diego Bisogna finire la sfida Però Non ho più voglia Mi arrendo E lo chiamo Ma niente Hai vinto Sì Vabbè 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 Sapete perché ho deciso Di finire la sfida Perché poi a Diego Gli viene così tanto Mal di pancia E sapete che io Li voglio bene a Diego Però E mentre Vado a prendere qualcosa di cena Ragazzi Mi è venuta un'idea Vedete com'è Diego Mi è venuta in mente Una cosa Che ne dici Se facciamo So Scambiamo gli oggetti Io scelgo un dolce E tu sceglierei Un salato Allora Io devo scegliere un dolce Sceglierò Questo qua Diego Tu quale scegli? Mmm Bella domanda Sai che a me Non mi piace il salato Però Per una volta Lo puoi mangiare? Assaggiarlo? Anche se A me Non mi piace Ce ne ho I Salamini Diego È ovvio Se ti piacciono un sacco I salamini Forse è l'unica cosa Che si piace salata Vabbè Ragazzi Noi ci vediamo domani Con una prossima avventura E Oh Com'è? Dolce contro salato Orta che c'è? Oh Com'è? Dolce contro salato Ciao Da figlia Chiara E Da figlio Diego Ciao Ti metto Ti loot Dig appropriately ropice D E Com'è? Tu Mi 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 Grazie a tutti.